Siamo qui con Filippo Vandinelli e con Giovane e oggi vittoria per il 3-2 una vittoria importante contro un avversario ostico nel calcio che aveva fatto un buon segretore sta facendo un buon segretore valutazione sulla tua prestazione e la prestazione che aveva fatto? La prestazione è stata positiva sotto tutti i punti di vista la squadra, anche perché abbiamo agitato la difficile sotto tutti i punti di vista siamo riusciti ad andare poi in vantaggio 3-1 avevamo la possibilità di gestirla un pochino meglio invece siamo un po' complicati la vita comunque sia vittoria meritata sotto tutti i punti di vista e ora giochiamo 5-2 partite alla morte per vedere se evitiamo di fare il play-off Ok, ringrazio Grazie, ciao, facciamo No, ciao